10. Confucio Confucio, 551-479 a.C. Filosofo cinese, promotore di un pensiero originale, inedito, nel panorama culturale cinese del VI-V secolo a.C. In massime, dice Il maestro disse L'uomo superiore si vergogna delle sue parole che eccedano la sua possibilità di azione. Commento Infatti, l'evoluto è tale perché ha raggiunto anche l'umiltà.